Ciao, oggi vi porto con me sulla ciclade dei fiori. Mi trovo in Peria e più principalmente località Borgoprino e proprio qui inizia il percorso che in circa 30 km ci porterà prima a Sanremo per poi concludersi a Ospedaletti. Io ho noleggiato la bici in questo negozio e poi proprio qui attraversando la strada inizia la pista ciclabile. Ho raggiunto il paese di San Lorenzo, la prima tappa su questa ciclabile e torrò continuo altri 5-6 km per raggiungere il paese di Santo Stefano. Dopo San Lorenzo c'è una lunga galleria lunga quasi 2 km. Il percorso di questa ciclabile è interamente pianeggiante perché è stata costruita sul sedime della vecchia ferrovia che collegava Genova con 20 miglia che è stata dismessa nel 2001. La ciclabile come vedete è composta da tre corsie, due sono dedicate alle bici per i due sensi di marcia mentre quella più a sinistra invece è dedicata esclusivamente ai pedoni. In parte alla ciclabile ci sono numerose aree di sosta dove potete fermarvi per bere un po' d'acqua o ammirare il bellissimo panorama. Dopo circa 11 km dalla partenza ho raggiunto il paese di Santo Stefano ed ora continuo verso Arma di Taggia. Dopo il paese di Santo Stefano bisogna fare attenzione perché la ciclabile si incrocia con la strada ci sono quindi alcuni attraversamenti con semaforo e anche una rotonda quindi massima massima attenzione. Ho superato i paesi di Arma di Taggia e Bussana sono quindi a più di metà della pista ciclabile ed ora continuo a pedalare verso Sanremo. Ho superato la vecchia stazione di Sanremo ed ora devo pedalare per gli ultimi chilometri fino ad arrivare ad Ospedaletti. Sul soffitto di questa galleria ci sono dei pannelli informativi che narrano la storia del ciclismo e anche della Milano-Salremo la storica competizione sportiva che si corre proprio in queste zone. dopo circa un'ora e mezza ho raggiunto la spiaggia di Ospedaletti dove si conclude questa bellissima ciclabile che percorre tutta la riviera dei fiori. il percorso come avete visto è semplice, adatto a tutti, c'è solo da fare attenzione in alcuni punti dove ci sono degli attraversamenti. Vi lascio tutte le informazioni tecniche su questa ciclabile nell'articolo del mio sito dove trovate anche i servizi che offro e come sempre, se vi va, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!